Un fuoristrada che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza poco più che ventenni, a bordo di una Toyota Aigo bianca, hanno rischiato grosso oggi, intorno a l'una di pomeriggio a Gordona, nei pressi della rotatoria dopo il ponte sul torrente Mera. Una leggerezza che poteva costare veramente carissimo. L'auto che ha rimboccato la rotonda a forte velocità è uscita di strada ribaltandosi e finendo contro un fienile in pietra. I ragazzi erano diretti all'iperaldifuentes. È stato necessario rimuovere il tetto del veicolo per permettere l'uscita dei feriti, i quali sarebbero rimasti coscienti. Sul posto i vigili del fuoco di Sondrio e la polizia stradale del distaccamento di Mese. Grave trauma cranico per il conducente che è stato elitrasportato al nosocomio di Sondrio. Gli altri due feriti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Gravedona, ma non è stato l'unico inconveniente sulle strade della nostra provincia. Traffico in tilt questa mattina a causa di un incidente sulla vecchia statale 38, nei pressi della rotonda al viadotto del Tartano. Sinistro avvenuto intorno alle 11, che ha coinvolto due auto. Tre le persone ferite, tutte trasportate all'ospedale di Sondrio in codice giallo, indice di un quadro clinico di media gravità. Grandissimi disagi alla circolazione. Si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia ed è stata chiusa per due ore la strada che dalla rotonda prosegue per Morbegno. 40 minuti, a passo con passo, in macchina, perché qui tutto questo casino che c'è penso che è un mega incidente. Non lo so, mi hanno detto di aspettare qui. E mi volevano fare andare nella superstrada, quindi mi perdo. Ho visto due macchine, ho visto che hanno tirato poi due feriti, e poi non so. Io devo andare a questa moda, ma scherziamo. Guarda, le macchine sono ancora lì.